e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video log allora ragazzi sarà un video brevemente veloce ragazzi finalmente potete scaricarvi o le benji sul vostro dispositivo cellulare o tablet si chiama Tsubasa Capitan ragazzi si chiama Capitan Tsubasa ragazzi adesso potrò vedere anche sul computer che sto attualmente giocando eccolo qua ragazzi fantastico gioco di o le benji finalmente qui ho un club che si chiama Oli e Benji se lo farò vedere eccolo qui ragazzi il nome di questo club che ho piato si chiama Oli e Benji mi raccomando unitevi tutti e faremo una grande forza di squadra niente ragazzi è stato un video abbastanza veloce solamente per far sapere che finalmente Oli e Benji è finalmente disponibile sui nostri dispositivi cellulare va bene? niente ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ciao iscriviti al canale grazie a tutti